Ha aggredito per futili motivi il custode 68enne della chiesa di Sant'Agostino a Sansepolcro, colpendolo ripetutamente al volto e provocandogli gravi lesioni. Adesso attenderà il processo in carcere l'aggressore, un 49enne di origine romena, senza fissa di more, con gravi precedenti per reati di vario tipo. L'uomo è entrato mercoledì sera nella chiesa di Sant'Agostino nel cuore di Sansepolcro e senza alcun motivo apparente ha aggredito il custode della chiesa picchiandolo violentemente al volto, tanto da provocargli la rottura del naso e una prognosi di 45 giorni. Il custode un 68enne della zona, nonostante perdesse vistosamente sangue, è riuscito a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri che hanno arrestato il 49enne. L'uomo è comparso in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Angela Vila, a sostenere l'accusa di lesioni aggravate, resistenza e minaccia pubblico ufficiale, il PM Bernardo Albergotti, che ha chiesto e ottenuto per lui la custodia cautelare in carcere. Il processo è in programma per il prossimo 12 gennaio.